Ricordo che questo è già il nostro sesto incontro di coordinamento umanitario. Lì altri anni si è focalizzato tutto sull'aiuto umanitario, perché era quello che serviva in quel momento. Quest'anno la grande novità è che faremo una riflessione profonda, dediceremo tutta una sessione organizzata dalla sezione migranti e rifugiati del Dicastero per parlare del rientro, perché è il problema che adesso sta emergendo in maniera molto seria. Abbiamo chiamato anche il commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite, il dottor Grandi, che anche lui ci dirà dal loro punto di vista come si organizzeranno per questo rientro e vedere anche un po' con i nunzi, con la Secretaria di Stato, verrà anche il Cardinal Parolin, i nunzi della zona, il Cardinal Zenari, il Monsignor Ortega e altri nunzi, vedere anche un po' come si stanno muovendo anche queste nazioni per il rientro delle persone che sono nel loro territorio. Grazie. 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 Grazie.